Cos'è successo? Cosa potrebbe essere successo? Non lo so, io non c'ero a casa, dice, ieri hanno sparato a un piccione sopra un filo della luce. Hanno preso, hanno tranciato il filo. Hanno preso il filo, hanno tranciato tutto. Molto probabilmente l'obiettivo del cacciatore era un uccello, ma ha centrato e tranciato quel cavo della linea elettrica, lasciando così per ore al buio l'intera frazione. È successo in località Crocifisso, nel comune di Fogliano della Chiana. I colpi esplosi da un fucile hanno tranciato di netto il cavo di tensione, provocando così un blackout elettrico. 4-5 ore, anche stanotte è andata via e poi è tornata. Questa mano è tornata via. I tecnici dell'Enel si sono immediatamente messi al lavoro per ripristinare la corrente elettrica. Sono stati così installati dei gruppi elettrogeni di mantenimento che hanno permesso di coprire gran parte dell'aria rimasta al buio per ore. Ieri pomeriggio dalle 3 alle 9 ieri sera. Poi hanno portato il generatore. Dopo si è rotto il generatore, da mezzanotte fino a stamattina a zero un'altra volta. Dopo hanno sistemato tutto. Tutta questa zona è una zona bassa? Sì, saranno 50-60 famiglie. Noi c'è stato lo stallone con gli animali e per abbeverarli è stato un po' un problema a mano. Il cavo sarà poi sostituito in un secondo momento. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Gli spari sono stati esplosi infatti in una zona spesso frequentata da cacciatori. Grazie.